Installazioni fotografiche di grande formato, mostre outdoor, talk e proiezioni, in una città che è uno dei più grandi musei d'arte contemporanea a cielo aperto del mondo. Image Gipelline, il primo festival di fotografie e arti visive open air in Italia, è uno dei pochi al mondo, fruibile dal pubblico sino al 29 agosto, nella cittadina siciliana in provincia di Trapani. Un festival che non è soltanto una rassegna di immagini, ma un laboratorio urbano che coinvolge gli artisti e il territorio per dare vita a una città-museo temporaneo, accessibile a tutti e gratuito. Organizzato e prodotto dall'Associazione Culturale On Image e dalla Biennale Svizzera, sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dal Comune di Gipelline e dalla Fondazione Oressiadi, con la direzione di Arianna Catani e Stefano Stoll, Image e Gipelline torna per la terza edizione sperimentando forme di esposizione sempre nuove, che mettono al centro lo spazio urbano e le sue infinite possibilità di visione. Uno spaccato culturale ampio e all'avanguardia, tra fotografia, incontri, performance e arte contemporanea, che offre momenti di vicinanza e scambi creativi tra gli artisti invitati e il pubblico, in un clima di grande informalità. Image e Gipelline è un festival di fotografia contemporanea che usa lo spazio urbano per creare nuove visioni, in dialogo con la città. La città è Gipelline, che è uno dei musei a cielo aperto di arte contemporanea più grandi del mondo. Il festival presenta più di 30 mostre e 40 artisti, presentati in installazioni uniche, in dialogo con le piazze e le strade di questa città. Quindi i progetti vengono installati in maniera inedita nello spazio urbano. Quindi la fotografia, Image e Gipelline, è arte pubblica. Questa gigantografia che vedete alle mie spalle è di un'artista coreana, Jun Han, che prova il vuoto mettendosi in punta nei palazzi di New York. Prova il vuoto come metafora del presente. Per la sua terza edizione presentiamo 31 mostre e 44 artisti provenienti da tutto il mondo e Image e Gipelline aumenta la sua vocazione internazionale con questo importante partnership con il festival svizzero Image VV, che è il più importante festival di fotografia contemporanea, open air, site specific d'Europa. Siamo stati individuati dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura come uno dei festival più importanti in Italia degni di essere sostenuti. Per fare arte pubblica non basta uscire fuori dai musei, ma bisogna dialogare fortemente con la città, con il tessuto urbano e anche con i suoi abitanti. Non si paga un biglietto e chiunque può venire a visitare il festival passeggiando per la città.